Io all'inizio della mia campagna elettorale ho detto che la mia candidatura è differente, sapete perché ho detto che è differente? Non perché sia diverso, è differente perché rispetto ad altre non ha una tensione alimentare, io vivo del mio. E questa è una differenza enorme, enorme, non perché questo sia un atto di presunzione o di arroganza o di orgoglio personale Pecero, è un atto che garantisce l'elettore nel sapere che io non mi piego alle esigenze di terzi e sono autonomo e libero rispetto a quelli che invece hanno alle spalle evidentemente interessi diversi.